Nuova brusca impennata di contagi da coronavirus in Puglia. Secondo le informazioni fornite dal bollettino epidemiologico regionale, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 12.751 nuovi casi, a fronte di oltre 95.000 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 13,4%. E ancora a Bari, la provincia più colpita, con 3.847 contagi, seguita da Foggia con 2.196, Lecce 2.136, Taranto 1.726 e poi la BAT con 1.580 casi, Brindisi, che ne conta 1.111, ai quali vanno aggiunte le positività di 101 residenti fuori regione e 54 di provenienza non ancora accertata. Con quegli odierni, la somma dei casi covid pugliesi, da quando è cominciata l'emergenza sanitaria, tocca quota 561.676. Pesantissimo anche il bilancio dei decessi, con altri 18 morti registrati tra ieri e oggi, per un totale di 7.153 vittime dall'inizio della pandemia. Scendono fortunatamente gli altri due indicatori di riferimento. Le persone attualmente positive sono complessivamente 121.543, circa 4.700 in meno di un giorno fa. Giù anche il numero dei ricoveri. I malati covid in ospedale sono al momento 781 in leggero calo rispetto a ieri, di cui 714 in aria non critica e 67 nelle terapie intensive, dove i dati restano stabili. Buone notizie, infine, anche sul fronte dei negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 432.980, con quasi 17.500 pugliesi guariti dal virus, nelle ultime 24 ore.